Si è svolta ieri presso il Dioscuri Palace l'award di cerimonia della scuola eurolingue che ha visto la consegna dei certificati Cambridge agli studenti che hanno sostenuto gli esami lo scorso giugno a celebrare così insieme un traguardo psia per gli alunni e i genitori diverse le scuole che hanno partecipato all'iniziativa di tutta la provincia. Oggi abbiamo voluto non solo consegnare le certificazioni Cambridge Assessment English ai ragazzi delle scuole pubbliche e anche ai ragazzi eurolingue che avevano affrontato l'esame ma abbiamo anche voluto premiare l'eccellenza in particolare quei ragazzi che si sono distinti per precocità nell'apprendimento dell'inglese, ragazzi che hanno raggiunto livelli altissimi in età abbastanza precoce. Quindi abbiamo premiato ragazzi di 14 e 15 anni con livelli C1 e C2, ragazzi di 12 anni con livelli B1, quindi insomma è una festa dedicata a loro, ai ragazzi che con passione ogni anno si dedicano allo studio dell'inglese. Si finisce un ciclo ne comincia un altro? Sì, quest'anno oggi abbiamo concluso diciamo con le certificazioni dell'anno 2018-2019, adesso naturalmente ci dedicheremo all'anno 2019-2020 e quindi ci aspettiamo di fare tantissimi candidati come già l'anno scorso. Sono numeri sempre in crescita perché ormai le famiglie hanno ricevuto il messaggio e anche i ragazzi stessi hanno capito l'importanza. Abbiamo chiesto a qualcuno dei ragazzi coinvolti qual era stata la loro esperienza e tutti erano consapevoli del valore della certificazione, non solo dello studio dell'inglese ma proprio del valore della certificazione Cambridge Assessment English come passaporto per la vita lavorativa, la vita universitaria, la carriera scolastica universitaria. L'inglese si ramifica anche nel tessuto sociale siciliano, non solo nel capoluogo grigientino? Sì, siamo sempre stati vicini un po' al territorio e quindi siccome facciamo esami un po' dovunque nella Sicilia occidentale allora abbiamo, diciamo ci siamo avvicinati anche alle scuole, agli studenti con cui già facevamo esami portando le scuole vicino, le scuole eurolingue più vicino alla loro città. Per noi il primo anno ci siamo cimentati nel diventare scuola preparazione per gli esami Cambridge, siamo molto soddisfatti dei livelli raggiunti perché i ragazzi in pratica si sono iscritti in più di 100 agli esami, li hanno sostenuti tutti con esito positivo, abbiamo avuto dei risultati anche brillanti di allieve che si sono distinte nel superare il livello per il quale sostenevano l'esame, quindi dal B2 al C1. Ormai siamo consapevoli dell'importanza che le certificazioni Cambridge abbiano a livello universitario nel mondo del lavoro, quindi ormai le scuole devono buttarsi in questo mondo delle certificazioni, noi adesso siamo pronti per ripartire.